eccoci qua la partita delle partite è arrivata ragazzi innanzitutto grazie a chi si è iscritto nelle ultime settimane oggi siamo arrivati a 2300 iscritti al canale grazie grazie ancora e dicevo la partita delle partite è arrivata è arrivata e speriamo cresciamo le dita ti fiamo sempre forza napoli e grazie grazie ancora lasciate un like lasciate un commento e iscrivetevi al canale grazie grazie ancora a tutti i nuovi iscritti ascoltiamo ascoltiamo il maradona grazie a tutti i nuovi iscritti impressionante come lo è stata l'accoglienza per le squadre con tifosi del napoli all'interno dello stadio già tre ore prima della partita massimo pagalizzano per vedere le formazioni Luciano Spalletti dice che senza chi mai gli sta squalificati si immagino il napoli nel complesso ci guadagna è così meret guangesis racmani di lorenzo Zierinski, Lobotka, Don Belè Kovara, Osimè, Neppolitano in attacco partiti forza napoli calcio di rigore per il Milan alla prima azione del Milan è una cosa assurda ma è lui che va addosso al giocatore del napoli a mario lui è lui che si è buttato facciamola vedere al bar però perché mi sembra che è lui che va addosso al giocatore del napoli Niente, è stato assegnato, va bene Giru, sbaglia Giru, dai Vai, vai, va a culo Va a culo E quando ci vuole ci vuole E dopo questa meretta Settembre del 2012 dopo 17 rigori consecutivi Ufff Ufff No, a te pare, mamma mia Politano e Mario 2 infortunati entrano Lozano e Oliveira Che sfortuna, che sfortuna Robi E sfortunati proprio, guarda Oh, fallo Ma come fallo Ma te ci vedi Ma che ci hanno mandato pure quest'altro Ma guarda là E fallo Ma sta scherzando Ma Ha piato il piede E fallo, è fallo Penalty check Vediamo un po' Sembrava che fosse stato pulito Non è pulito È canale 5 e Milan Channel Si sa, no? Va bene Niente Va bene, dai No, no, no No, no, no Finito il primo tempo 1 a 0 per il Milan 1 a 0 per il Milan Ce la possiamo fare Il secondo tempo Diventa determinante Solita partita del Milan Da provinciale Con il solito contropiede Segnato Va bene, comunque Va bene così Abbiamo tutto il secondo tempo Tutto il secondo tempo Per recuperare Almeno 1 a 1 E poi cercare di fare il 2 a 1 Per andare almeno ai supplementari Bene Ci apprestiamo Ad assistere al secondo tempo Dovrebbe arrivare il golo per il Napoli Almeno nei primi 15 minuti Mani Rigore Vai Rigore Vai Fallo di mano È da munizione questo Che cadendo Prende il pallone con le mani Togliendo il gol Arraspatori E l'ha fatto apposta Eh Eh Ha parlato con la mano Eh ma Dovrebbe essere da rosso questo eh Parato 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 Ma perché Ma perché Abbiamo perso il conto dei corner Forse del Napoli Denota la partita Denota la partita da provinciale del Milan Campione d'Italia eh E' una campione d'Italia che si viene a difendere in 11 dietro la palla Tutti dentro Raspadori al cross e coppa di tempo Gol Vai Osimena E vai Vai Magnana sta perdendo tempo Rovinciale Finita E' finita Ma magari arrivate Magari arrivate In finale la perdete Che bello